In questi nostri appuntamenti della Fluxus Viennale non potevamo tralasciare una figura fondamentale e importante soprattutto italiana che ha fatto parte del gruppo Fluxus come Giuseppe Chiari. Quello che conta è lo spirito. Perché Chiari è Fluxus? Perché Chiari ha fin dall'inizio la consapevolezza che l'essere umano e quindi l'artista e l'arte vive all'interno di una globalità di fenomeni. Una globalità di fenomeni per Chiari e per Fluxus significa che l'arte estende il suo raggio d'azione alla vita e registra anche gli eventi minimi come può essere l'azione del respirare, quindi eventi inconsapevoli oppure eventi banali assolutamente quotidiani come scendere per strada e percorrere una strada. L'opera che vedete alla mia destra, questi fogli che vedete appesi sono del 1965, si possono considerare come una sorta di veri e propri appunti di notazioni e si intitolano proprio la strada, come se piovessero addosso a chi li trascrive e vengono associati in maniera quasi automatica e poi trovano questa forma di notazioni. Bene, globalità quindi dei fenomeni ma anche complessità dei fenomeni. Non semplicemente Chiari trascrive i fenomeni così come gli capitano, non è un'operazione così giornalistica e fenomenologica ma è un'azione che rileva la complessità, vuol dire che si accorge che l'esistenza, la vita e quindi il compito dell'arte è di rilevare anche le contraddizioni che sono insite in questa globalità, in questo mondo così allargato. Per Giuseppe Chiari oggetti che hanno una valenza funzionale precisa dal punto di vista musicale come degli strumenti veri e propri possono essere usati come oggetti senza questa valenza musicale e al contrario degli oggetti che non hanno nessuna valenza simbolica possono diventare oggetti d'uso musicale. Guardate per esempio quel pianoforte che ha alle vostre spalle. Innanzitutto è difficile da suonare così come si potrebbe suonare tradizionalmente perché la tastiera è quasi appoggiata al muro e poi è presentato quasi decomposto quindi con il suo coperchio aperto e non semplicemente aperto ma tolto e appoggiato di fianco. Ecco quindi che l'oggetto diventa qualcos'altro e se l'oggetto è qualcos'altro e naturalmente l'oggetto pianoforte è un oggetto con una forte valenza simbolica dal punto di vista della tradizione musicale ma se l'oggetto è qualcos'altro chiaramente cambia anche chi si appropria dell'oggetto o chi usa quell'oggetto. Nelle fotografie che sono nella sala alle mie spalle e che si riferiscono a gesti sul piano vedete l'artista che usa un pianoforte verticale in una maniera totalmente anticonvenzionale stendendosi su di esso, lavorando con i gesti, con le braccia, usando le braccia in tensione oppure le braccia morbide, usando il pianoforte come se fosse quasi un tappeto per la contemplazione quindi lo vediamo raccolto oppure lo vediamo in momenti dinamici proprio addosso al pianoforte. Ecco quindi che si instaura un nuovo rapporto completamente inedito e che dà conto della complessità dell'esistere in cui tutti noi oggi viviamo. Grazie Alvin Carran Mi sono incontrato con Giuseppe nel 1965 qui a Roma, ha un grande ruolo nella mia vita, non solo un influsso artistico, spirituale, assurdo. Mi mostrava una strada che si chiama l'Avanguardia, è ancora viva, ancora lì, ancora trovabile, ancora percorribile e dopo Giuseppe rimango io felicemente sulla stessa strada. Grazie a tutti!